L'esercito italiano presente in fiera per dare una mano e potenziare il servizio tamponi, un contributo importante a fianco dell'azienda sanitaria veronese nella gestione appunto dell'unico punto tamponi cittadino. La presenza dell'esercito permetterà di implementare le due postazioni per lo screening drive-in e le postazioni fisse già esistenti. L'obiettivo è quello di incrementare la capacità di effettuare test di screening e dei tamponi da parte del personale medico infermieristico del servizio sanitario veronese e del corpo militare della Croce Rossa italiana Comitato di Verona. A coadjuvare le operazioni di afflusso e deflusso delle zone pedonali e delle corsie su cui accedere in auto saranno gli uomini e le donne delle Forze Operative Terrestri di supporto, la Comfoter di supporto. La struttura allestita in fiera si unisce a quella che tra domani e mercoledì sarà attivata anche nel comune di Ronca e agli altri 13 drive-throw dislocati nelle province di Rovigo, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia e Belleuno in cui l'esercito opererà a fianco delle istituzioni delle autorità sanitarie locali e della protezione civile.